Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Vieni qua, Alice vieni con me per guardare che mi stai immergodendo con quest'uomo Vieni qua, girati, pulitina, vai di buco del culo qua che fai schifo ogni volta Ti voglio bene ragazzi Eh ti voglio bene pezzo di merda eh Dai via goccia, siamo rimasti qui, non cadetti in sala di niente E quanti cambia la corsa? Tu ti scoffi? No, non fa più ridere però, un taricone fa schifo E così era? Mi fai schifo? This is kitchen Vabbè andiamo a vedere E this is work Mamma mia Non me la ricordo ragazzi Sei passata a menta da me ma l'ho dimenticata anch'io Devi fare un bel di salice appena di staccare, ripetemolo tutto C'è la vita eh? Hai sì? C'hai? Sì, c'ho No, sono rilanzato Eh Nel senso Ehm No, no Non è capito nulla eh Chi quella? Ah quella No, non ho detto quella Non è capito nulla Lei? Minimo cello di Mh Io Eh? Non ho capito un cazzo Già ride? Ah sì, stai calmo Un secondo Eri una troia come le altre Mi ha spezzato il cuore dopo e fatto go 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 Eri una troia come le altre Mi ha spezzato il cuore dopo e fatto go 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 Ma è meglio continuare la diretta Ma ve lo dico semplicemente perchè forse è per il benestare di tutti A me non frega un cazzo di voi Ma si sta Eh? A me non frega un cazzo Ma si sta Eh? A me non frega un cazzo Eh? A me non frega un cazzo Posso continuare? Certo scusa C'è cazzate andiamo Eh? Allora guarda qua Sai come lo chiamano questo? La sputanas della Horgas Non l'hai chiamata così Si? Possiamo andare a chiamare gli altri frontman? Poverino Poverino di che? Cazzo vuol dire poverino Eh? Se mi devi trattare così me ne vado eh? Non è un problema Ma no Ah quindi va bene? Può andarsene? Si Vediamo la chat come regisce Cammina, cammina Ti faccio sapere io quando se urno torna indietro ok? Vediamo la chat come regisce Mi vuoi incazzare Ma non mi chiamano male che andiamo a Fernando Eh Fernando quel codio Se mi chiamano la tua cazzo Questa cosa qui? Il caschino nei miei panni Non ho mancato E' il momento di fare un videoclip E' il momento? Si Prima un pochito di riuscire Ma chi? A parati? E' parami E' giù E' giù Vai 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 No Non ho per terra Questa si appiccica tutta Che è schifo Che è schifo Tutta la vodka e merda Dai fratele Vodka e Red Bull Porca droga No a parte la tua live di merda Che è schifo Ho scorreggiato un attimo al volo Sei mia sorella Cazzo Posso scorreggiare? Si Ti faccio vedere come fa a smettere questi di fianco Come cazzo fa a smettere? Come fai? Alza un po' la musica Ah no vuol fare il ca... Eh ma sono famiglie Non mi ha fatto un cazzo sta musica Alza Aspetta Non... Non ho preso Autonomia e rettifiche Vai Ok Mi dica in qualsiasi momento se desidera raggiungere una stazione di servizio No ma che bella vista giunta Com'è che si chiama? Matteo sapimi sei là per fuori Te lo passo Ma che se non facessi cosa? No Erika No serio Serio sta parlando a Teo Che cazzo fa c'è? Sta parlando a Teo o rosso? Vabbè mi stai diventando d'accordo Questo E' per brindare Ehi Si come fa? Ehi Uh Nella casetta di sicurezza Uuuu 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 Oddio sono per terra Oddio Oddio Eh Che cosa stai facendo eh? Eh 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 No Ma di nuovo ragazzi Mi stai diventando Mi stai lamentando Dai Oh Ma sei l'incoglionito Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Non lo faccio 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 scusate 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 ma tu stai tossico oggi fammi chiudere la macchina tu mi hai fatto fare una figura di merda mi hai fatto fare una figura di merda grazie mille per i 5 sapo l'ho già detto eh grazie alexi salutala ma è sempre così eh io ti saluto poi ti rompe per me bene sono fesi niente sta che dalla diretta tossico cosa fai ma stai andando a guarda sei contento? no ma non volevo cioè ma io non è che mi hai mi eccito questa cosa che bacio in fronte no si come al battito no ma tu ti sei sincero a me non bacio solo la bocca questo no niente la sua bocca ma vedi che sono il rosetto oh calire di merda mi ammazzo tutte no alexi tu hai rotti i coglioni allora alexi sbagliate no 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 sei camicia di fuori oh no 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 tengalo no un pochito un pochito porfavor perchi estamos aqui estamos estamos aqui todos juntos no porfavor no provare un pochito porfavor hermano no 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 non fa mi sembra un po' un tiktok questo saluto pini ah vai facciamolo mamma di me che me siete novega basta sei geloso alexi mi ha toccato? che ti ha toccato? eh mi ha toccato? il braccio eh guarda alexi oh oh virginia la pegla la metto con no la vedi che tu sei stagionato è vero porca di quella puttana scendo i giovi che ti scusa il ginocchio pezzo di merda eh come cazzo ti permetti punto uno lo ha toccato che confusino ma allora mi scusi potrebbe smetterla? nooo ma si stanno divertendo? ma stanno dei tossi dai ragazzi mi sono andato a bicchiere per favore ragazzi ma perchè sto bevendo io non faccio sottotocci l'hai bevuta la guscia? ma questo lui sta a fare per la live appena sta fermo che schifo oh luca hai rotto i coglioni oh eh per favore allora ragazzi noi vogliamo fare una cosa ok io alexina andiamo un attimino in bagno ok ma hai detto c'ho il panico si si ma andiamo un attimino in bagno ce l'ho scopato ieri chi t'è? no non posso riprendere io? vai mamma donna ma l'hai sentito? ma l'hai sentito? ha fatto rito alexi ci avete sentito? ci avete sentito? non mi dico di no e stai indietro ci avete sentito? meno sassi giuro tu sei vero alexina ora? andrei che lo sto schiazzando ridendo ma guarda che tu non ce la fai più andrei tu dovevi andare a fare la youtuber leak sei impazzito passerò ma chi passerà andrei? che è successo? che è successo? che ti ha detto? che è stato abituato in live che ti hai fatto ieri? famerio bellissimo saluto è uno spot per i dentisti questo ragazzi riportiamoci ma chi fa casino? passerò aspettatemi qua che tra poco torno con gli amici e tipo l'ha detto a 7-8 persone e nessuno ci ha aspettato fine non ho capito ah ok va bene va bene ciao 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 buona live ci hai messo? vado a vedere il suono di live per essere ciao dai ragazzi mi stai molto picchiando